Enrico Zenoni workout 3 Vodapalusa qualifier 2021-2022 di rangere uomo 2,5 kg 5 kg vediamo se si vede qua ok la sbarra qual'è? questa qua si vediamo ok ok inizi con l'idea Drift Zen non c'è bene no aspetta ti voglio qua qua così si vede tutto perfetto quello così perché se mi cade il bilancino si vede tutto nel frattempo sono qua e intervengo ci sei? si il duro deadlift con il duro pull up 15-15-99 10 10 5 3 2 1 2 1 2 2 3 3 quindi bene 5 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 12 15 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 pull up 15 9 9 Mancano 9.35 Adesso abbiamo 15 12.9 Cross walk E gesto bar 1 10 14 15 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 19 20 15 15 16 18 19 19 20 20 21 22 22 24 25 25 26 27 28 29 30 21 22 23 23 24 25 25 25 25 27 27 28 28 28 29 30 28 29 30 30 30 30 30 30 32 30 30 31 32 32 33 33 33 34 33 33 sei, sette, otto, nove dodici, nove, sei, sciolto il bar mascolato se fai il jerk, occhio alle ginocchia quando fai il reddip, cioè quando estendi uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici bravo uno due due quattro cinque sei sei sette otto quattro quattro per arrivare a dodici nove dieci dieci undici dodici dodici ciao ciao occhio sempre di ginocchia zero penso che sei più stacco tre tre al termine nove uno aspetta due vado così tre quattro cinque sei sette sette otto nove tre pro fare sei tre alla sbarra quattro uno due tre quattro cinque sei tre tre per arrivare a nove due venti tre tre per arrivare a nove due venti uno due due nove sei e sei un minuto e cinquanta uno due tre quattro cinque sei cinque uno e quindici a termine uno due tre quattro cinque sei cinquantacinque secondi si ricomincia con i deadlift ventuno uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici ottordici quindici sedici dici sette diciotto diciannove venti ventuno ventuno quindici secondi al termine proviamo a fare una decina dai dieci secondi adesso ora pull up uno due tre quattro cinque sei sei ok zero posso stoppare abbiamo fatto vedere tutto ok dopo perché non me lo vedi